Non ci sono solo i furbetti dell'evasione fiscale nei Pandora Papers, no. Ci sono anche criminali e mafiosi, che utilizzano i paradisi fiscali e le società di comodo per nascondere e riciclare denaro sporco, sfuggendo alle normative nazionali di contrasto alla criminalità organizzata. Sappiamo che paradisi fiscali esistono anche all'interno dell'Unione Europea e la blacklist che è stata stilata è estremamente lacunosa. Vogliamo combattere i paradisi fiscali e il riciclaggio? Lo vogliamo fare seriamente? È necessario che gli Stati membri adottino urgentemente le direttive antireciclaggio e che l'Unione Europea prenda provvedimenti efficaci contro i paradisi fiscali. Ringrazio i giornalisti e le loro fonti che hanno reso possibile la diffusione dei Pandora Papers. La libertà di stampa è spesso l'unico baluardo efficace contro queste pratiche illegali e permette ai cittadini di conoscere la verità. Per questo torno a sottolineare anche l'ingiusta detenzione a cui è sottoposto Giuliano Assange. Assange deve essere libero. Grazie. 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 Grazie.